Ciao, sono Silvia Rocca, ho partecipato alla prima edizione della fattoria Insegno danza Non so cucinare ma so comporre il numero di prontopizza anche ben data Pronto? Sono giornalista, scrittrice e sessuonga, a volte faccio le tre cose separatamente Ho partecipato al film di Amadovar, linea sottile e ho letto le notizie con le tette al vento Perché qualcuno non mi chiama a fare qualche programma? Daniela Santan, che è stato... Daniela Santan che è stato...